Ecco cos'è il trading davvero, c'è un trading system tra i miei con quasi 5 anni di out of sample che hanno anche i miei studenti, che è super conosciuto, si chiama Oro Stardust che ha fatto 16 trade consecutivi, eccoli qua questa colonna che sto indicando con il mouse è l'elenco dei trade ed effettivamente dal 17 aprile non ne ha sbagliato uno nel momento in cui registra il 19 maggio vuol dire un intero mese fatto di profitti 16 take profit consecutivi da 1000 dollari fanno 16.000 dollari poi arrivi, lo metti su, cioè lo metti live visto che ha fatto queste performance incredibili, pazzesche 4.000 dollari di qua, 16.000 dollari di là, eccetera lo metti quindi live, e lui, live, al primo trade prende uno stop loss a questa è o sfiga, o legge di Murphy o forse il trading automatico non ne vale la pena davvero cioè se in simulato out of sample ma non reale appunto i trading system guadagnano l'era di dio poi li metti live e fa meno 3.000 dollari forse tutto questo è un po' una fuffa forse non si può fare soldi davvero con il trading automatico benvenuti a tutti signori in questo nuovo video io sono Francesco Buzzi faccio fino a 16.000 dollari in un mese con poco capitale leva finanziaria inferiore a 30 e senza trucchi magici per scoprire come? link in descrizione numero verde 800 475 300 e sto registrando il venerdì questo Buz Monitor leggermente in anticipo perché nel momento in cui vedete questo video sono alle prese con la giornata live con il primo evento live di Buzzi dedicato agli studenti del Master Scrocchierello quindi non avevo tempo e modo sicuramente di registrare quindi registro il venerdì mattina questo è il Buz Monitor l'appuntamento per 1 analizzare i dati macroeconomici macroeconomici che escono e come muovono i mercati 2 i future letteralmente come si sono mossi durante la settimana che informazioni ci danno e 3 ho capito ma dato tutto questo i trading system hanno guadagnato o no? prima di tornare a parlare di oro stardust breve recap di quello che è successo in termini di notizie macroeconomiche non c'è veramente niente questa settimana di rilevante nella maniera più assoluta ah sì c'è un po' il tasso di inflazione italiano leggermente cresciuto perché è trailing anno su anno ma insomma poco altro il SP500 tocca i massimi del 2023 questa è sicuramente un'ottima notizia nel senso che sta facendo il più 9,64% chiude a 4216,5 molto bene settimana molto performante e poi ripeto sto registrando venerdì mattina metti caso che venerdì sera e non so esplode tutto quanto e torna giù ma comunque ottima settimana finora per l'SP500 questo discorso invece sul trading system stiamo parlando di trading automatico questo è un canale di trading automatico io sono un trader automatico e insegno il trading automatico succede però spesso che non si creda al trading automatico alla possibilità poi effettiva reale di farci soldi perché perché è facile fare un equity line costruire un trading system letteralmente incolli due pezzi di codice e l'equity line l'hai già fatta nei miei corsi insegno proprio questo che fare equity line è un lavoro da scimmie e quello che è veramente difficile è andare live fare soldi live anche perché poi succedono queste cose con 16 trading take profit consecutivi fatti con una regolarità pazzesca proprio su oro proprio su un sistema out of sample da una vita proprio su un sistema condiviso cioè non è che l'ho costruito adesso per farvelo vedere questo è il principio lo metti live e la prima cosa che fa vuoi che non sia un bello stop loss da meno 3000 dollari allora lì sì che ti scende un po' tutto che il confronto tra il simulato l'equity line che vedi su 20 anni che fanno 300 mila dollari eccetera eccetera e in live quello che vedi tutti i giorni quello con cui ti devi confrontare attraverso lo statement del broker non colliva non coincide più e dici ok forse il trading automatico me l'hanno raccontato male forse non è quella cosa lì forse non ci si possono fare davvero soldi o non l'ho capito o comunque non posso farlo perché non ci si fanno soldi questo è un sentimento assolutamente comune è un sentimento che ho vissuto anch'io perché anch'io ho avuto interi mesi negativi nel mio trading live ho fatto anche un anno intorno allo 0% di profitto 2019 l'ho raccontato è stato un anno sostanzialmente tremendo perché dura 365 giorni e poi ti porti a casa pochissimo ma questo perché il trading automatico non funzioni è un trucco è il metodo di guadagno facili che poi in realtà non esiste tutta fuffa poi vai live e le cose non funzioni no assolutamente no c'è una differenza ovviamente tra il simulato e non ad esempio rispetto al fatto che l'equity line da lontano i trading system da lontano sembrano tutti perfetti viverli giorno dopo giorno è completamente diverso ma questo non riguarda il trading system riguarda te e per questo che nei miei corsi metto sempre una parte fondamentale di gestione emotiva che cosa scrivi trading system a fare per lasciare poi tutto il processo decisionale a un computer quando poi metti live il trading system e ti disperi il momento in cui fai uno stop loss deve essere tutto coerente metti live il trading system metti live un bel portafoglio diversificato perché tu possa avere tante strategie diversificate che fanno al posto tuo tutte le scelte basate sulla statistica sui numeri sui dati e tu stai lì dietro a strapparti i capelli ogni stop loss ogni take profit non ha senso ti devi distaccare emotivamente questo è il primo step per diventare professionista in termini proprio di per avere un approccio professionale questo intendo detto questo passiamo allo step numero 2 visto che di notizie macroeconomiche ce ne sono veramente veramente poche con l'analisi dei mercati a sinistra abbiamo il grafico daily in mezzo al grafico 30 minuti e poi i soliti indicatori di volumi e volatilità monetaria come dicevo l'SP500 sta avendo un'ottima settimana appunto siamo a mercati aperti quindi in questo momento sta scendendo l'SP500 insomma sta facendo una bella doji molto 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 incerta fatto sta che ieri sera ha chiuso a 4212 che è sicuramente un ottimo prezzo ed effettivamente la settimana finora è stata molto positiva molto direzionale anche sufficientemente volatile anche se non in modo estremo come settimana scorsa fatto sta che mercoledì e giovedì sono stati due giorni molto 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 direzionali molto puliti con pochissima incertezza vedremo cosa succederà oggi ma sicuramente io sto registrando alle 9 di mattina veramente non ha senso pensarci anche perché il clou dell'SP500 ce l'abbiamo dopo l'apertura di Wall Street dopo le due e mezza se ci sono dati macroeconomici dalle due ma insomma sicuramente non la nostra mattina detto questo per quanto riguarda il Nasdaq siamo a 13897 ha già rotto i massimi dell'anno da una vita sta facendo una performance assolutamente a capogiro che mi auguro non vi perdiate ho messo da parte anche un sacco di trading system sul Nasdaq che stanno guadagnando perché poi è questo il principio ma ci sono dei trading system che stanno guadagnando nella situazione macroeconomica di cui vado parlando assolutamente sì per quanto riguarda l'obbligazionario scende scende molto bene appunto decorrelato all'indice per quanto riguarda l'indice VIX siamo a 16 punti è veramente molto basso costantemente basso proprio perché gli indici stanno salendo assolutamente molto bene quindi l'indice della paura è basso e ci conferma che possiamo stare tranquilli per quanto riguarda euro che scende abbastanza questa settimana mi interessa molto oro perché è salito tantissimo negli ultimi tempi raggiungendo i massimi storici questa settimana ovviamente torna giù in parte l'avevo predetto senza voler fare Nostradamus perché non ha senso ma ci stava un bel un bel ritornino siamo a 1968 nel momento in cui registro ve la lascio lì così statisticamente tipicamente il venerdì è long per oro è interessante adesso che dico questa cosa alle 9 di mattina vedere che cosa succederà per quanto riguarda invece crude oil l'altra grande commodity settimana assolutamente interlocutoria si chiude comunque al momento è positiva senza ombra di dubbio ma tra un lunedì negativo un mercoledì molto positivo un venerdì negativo buona volatilità non c'è assolutamente una traccia evidente questa settimana per quanto riguarda Soie stiamo scendendo quindi 1335 circa come immagina anche il wheat e il corn sono abbastanza correlati ognuno poi ha le proprie caratteristiche ma ci si può aspettare che si muovano abbastanza in modo coerente come per quanto riguarda le carni con il linox settimana orribile con un solo giorno molto direzionale ma sostanzialmente non si è mosso quindi immagino anche no il live cattle è positivo con una buona volatilità un po' interlocutore ma comunque positivo e anche il feeder cattle che non è male ieri è chiuso molto bene nel momento in cui registro la sessione non è ancora iniziata inizierà no è iniziata è iniziata è iniziata poco 8 e mezza può essere no 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 deve ancora iniziare chiedo scusa mi sono confuso deve ancora iniziare quindi i prezzi che stiamo vedendo sono quelli di giovedì sera che ha chiuso 234 e mezzo per quanto riguarda zucchero settimana negativa succo d'arancia assolutamente interlocutore pessima settimana di caffè completamente laterale con alta volatilità delirio veramente cotone molto bene e cacao uguale al caffè per quanto riguarda il nostro amico bitcoin pessima settimana anche qua nel momento in cui registro il future segna 26.935 dollari è comunque una settimana stranamente in realtà laterale perché di solito è un po' più correlato all'SP5 cento il bitcoin invece lateralizza e va bene così per quanto riguarda i trade appunto vi vorrei far notare che lo stardust ha iniziato la giornata con un trade short quindi potrebbe essere anche che se oro sale stardust fa due stop loss consecutivi quindi immaginatevi di iniziare a mettere live stardust qua dopo 16 take profit consecutivi quindi qua ce l'avete live primo stop loss live secondo trade che parte subito negativo immaginatevi la vostra situazione emotiva bene sono fatti vostri il trading automatico funziona così appunto qualche trade croccante in questo caso ve li faccio vedere le immagini perché il resto è sull'altro computer e va bene così ho attivato uno streaming a caso questo è l'SP500 arrow che fa 2870 dollari appunto Nasdaq vi parlavo dei grandi profitti 2450 dollari soia crepsis abbiamo visto una settimana molto short molto direzionale sta prendendo profitto più 2000 dollari appunto l'SP500 quando sale quando sale in modo così direzionale tanti trading system diversi prendono profitto questo è un trading system molto diverso dall'arrow che abbiamo visto prima ma in realtà è molto diverso anche dal new hook sul Nasdaq è un sistema intraday gap che si basa sui gap che ha preso un ottimo profitto da 1450 dollari un altro Nasdaq come dicevo quando c'è una buona direzionalità così tanti trading system prendono profitto più 3500 dollari euro settimana molto negativa in questo caso abbiamo un sistema new hook che prende un ottimo profitto da 2462 euro su wheat con i mercati ancora aperti ma comunque l'ultimo trade chiuso ha fatto 1470 dollari per quanto riguarda il crude oil abbiamo anche un trade molto piccolino molto veloce non dico intraday perché non è intraday tecnicamente ma più breve di un'intera sessione 1370 dollari sul crude oil con il trading system partagas poi abbiamo ancora Nasdaq Tankenali più 5720 un altro sp500 come dicevo tanti trading system diversi questo è un altro trading system reversal che è ancora diverso dall'intermarket arrow che è ancora diverso dall'sp500 gap questo è un reversal che si basa sulle bande di bollinger o sul keltner channel profitto più 1500 dollari e in chiusura un altro soia con soia duane più 1800 dollari come ogni settimana da mesi vi faccio vedere i take profit di alcuni miei sistemi tutti out of sample tutti condivisi tutti con codice aperto proprio per dimostrare che si può fare questa è una delle mie caratteristiche una delle battaglie che porto avanti detto questo vi lascio uno splendido meraviglioso weekend io in questo momento sarò sarò sul finire no sì sarà momento aperitivo per i ragazzi del master scrocchierello buon weekend statemi bene perché ve lo meritate un pensiero ovviamente alle persone delle milie romani e delle marche e lunedì a un nuovo video ciao